Musica Buonasera gentili amici ed amiche di Fanner, un cordiale saluto che vi giunge dallo Sport City di Trigoria dove per il gerone 1 del campionato di Serie A2 della Lega Calcia 8 si affrontano questa sera nella seconda giornata di campionato Barcellona Caffè e Montagnola Va Martini con il destro al lato di poco nel campionato nella scorsa edizione della Lega Torniamo in cronaca perché c'è la finta di Guadagno che viene steso di fronte a sé Attenzione Guadagno va con il destro in porta e c'è il vantaggio del Montagnola con Guadagno L'avevamo detto, potevano essere le punizioni e sbloccare l'incontro e così è Colpisce Guadagno, Montagnola in vantaggio allo Sport City Sbaglia l'impostazione, recuperano i bianchi ma è ora alto il pressing Gabriele, attenzione palla sul destro, Gabriele si defila, c'è l'ottimo recupero di Martini Poi arriva la conclusione di Zulli, il pallone rimane là Di Pignatelli in realtà ci arriva il numero 23, Gabriele, che anticipa il compagno Mentre torna sul terreno di gioco Andrea Aureli per il Barcellona Caffè Calciatore in maglia numero 4 che ha operato quasi da esterno alto a sinistra Mentre c'è un altro che ha un'altra ammunizione, questa volta ne fa le spese Andrea Sensolini Attenzione perché per Sensolini era la seconda ammunizione e termina qua la sua gara Montagnola che rimane in 7, espulso per doppio giallo Andrea Sensolini Arriva ora il nulla osta, va il 45, direttamente in porta Non di molto, alto sopra la traversa Partire il gioco, attenzione, ancora un errore Zulli, palla sul destro, il tocco per Battistini, troppo lungo Battistini di tacca, ancora Bottoni Che salva la partita per il Montagnola Ci mette una pezza a guadagno, vediamo se il pallone esce Così non riesce Marco Lelli a tenerlo al campo Allora ancora Barcellona, c'è qualcosa che non va Attenzione, Zulli e Lelli Testa a testa tra i due calciatori Che hanno qualcosa da ridire, ci è sfuggito Ma c'è un cartellino rosso C'è un cartellino rosso ai danni di un calciatore del Montagnola Rimane con due calciatori in meno Attenzione alla punizione, battuta ora in porta E ancora il miracolo di Bottoni Con, lo ricordiamo ancora una volta Con una spalla a mezzo servizio Il numero uno, riesce a tenere la porta inviolata E arriva ora il triplice fischio del direttore di gara Allo Sport City Il Montagnola si impone per 1-0 sul Barcellona Caffè Comunque la partita è stata equilibrata su tutti i 50 minuti credo Poi alla fine certamente il pareggio ci stava Secondo me Siamo stati veniti da un calcio piazzato Commettiamo sempre questa ingenuità a limite dell'aria A calciotto si pagano perché Vicino il tiro e quindi il portiere non poteva nulla È stata importante la vittoria La partita come hai detto tu Come hai detto anche lui è stata equilibrata E ci siamo già scontrati con questa squadra Quindi sapevamo di affrontare comunque un avversario ostico Sì vabbè il gol sicuramente fa piacere È importante la vittoria della squadra Questo ci tengo a dirlo E ecco siamo partiti la prima partita con una sconfitta Contra una squadra che non ci aspettavamo Così forte E niente ora vedremo un attimo come si avvolge il girone